Via! Ciao a tutti! Scusate la location, sono qui a fare un aperitivo, però volevo ringraziarvi perché ho appena scoperto di aver vinto la BlockFest e per me è un grandissimo onore, ma soprattutto perché vengo proprio, cioè il mio media è internet, quindi sono nata proprio con internet e grazie all'internet ogni giorno posso dirà qualcosa di più grande passione, quindi un bacione, grazie, grazie!